L'archivio di Giuseppe Marchetti Longhi che qui abbiamo esposto non contiene ovviamente soltanto il materiale che si vede ma negli armati sono conservate decine e decine di buste queste e oggi vi farò vedere uno di questi, una di queste nuove buste con il materiale che qui è contenuto. Marchetti Longhi è stato un ricercatore e qui abbiamo preso la busta che riguarda i conti ricercati. Da questi fascicoli si può capire il modo come Marchetti Longhi lavorava. Faceva un'ampia ricerca archivistica annotando su questi fogli le notizie, un reggesto e cominciando a fare delle ricostruzioni storiche. Lui era noto anche come genealogista oltre che topografo del territorio. Ci sono documenti di diversi archivi, di diverse fonti. Queste per esempio sono delle cronache dei conti di Ceccano che vengono dagli analisi ceccanenses che sono anali costruiti alla corte di Ceccano anche se vengono chiamati anche anali di Fossa Nova perché uno dei manoscritti era conservato nell'archivio di Fossa Nova. E c'è appunto una ricostruzione attraverso queste schedine di tutte le notizie che lui poneva in duplice oggi di materia e cronologica, all'interno del cronologico. Oltre a questa documentazione locale, lui ricorreva anche ad altra documentazione. Con l'esempio dell'archivio Colonna, lui ha avuto accesso ai principali archivi romani. Ha lavorato nell'archivio segreto Vaticano, nell'archivio di Stato di Roma, agli archivi delle grandi famiglie appunto come questa dell'archivio Colonna dove qui trascrive la pergamena del gruppo 25 numero 97 che è del 22 agosto 1201. Lui ne ha fatto la trascrizione. Siamo negli anni di Innocenzo III. Trascrive notizie dai libri, nel libro di Michelangelo Sindici sulla storia di Ceccano di Paolo Pressutti, reggetti di Onorio III. E poi, una cosa molto importante per noi, che diventa anche un dato raro, lui ha trascritto anche documenti riguardanti i conti di Ceccano provenienti dall'archivio di Stato di Napoli della sezione Manoscritti Angioini. Come è noto, i manoscritti Angioini non esistono più, sono stati bruciati per ritorzione dei tedeschi dopo la cacciata da Napoli che la popolazione insorta fece. Vennero bruciati tutto l'archivio Angioino Aragonese, fu portato per salvarlo dai bombardamenti, dagli eventi perdici in una villa di campagna, i tedeschi volutamente bruciarono un intero archivio per cancellare la memoria storica dell'Italia, ma non sapendo, o meglio, forse lo sapevano, che avrebbero anche, come dire, danneggiato la memoria storica dell'Italia. E qui ci sono appunto alcuni documenti che sono stati prodotti nell'ambito degli Angioini di Napoli e che riguardano i conti di Ceccano, che sono stati poi trascritti e vengono riportati in queste schedine che lui utilizzava come metodo di lavoro. È un metodo frequente che noi riscontriamo e molti ancora lo sono oggi. Poi ci sono anche documenti provenienti da diverse altre fonti, come per esempio dall'archivio capitolare di Anagni, sempre dall'archivio Colonna, il ricchissimo archivio Colonna, qui sono i gesti e le trascrizioni. E poi, intanto ne approfitto per farvi vedere come, e poi lui ha cominciato a rielaborare materiale a partire da alcuni elementi importanti di Ceccano. La famiglia di Ceccano, che prende il nome dal castello, con la ricostruzione cronologica delle persone, il castello di Ceccano, Santa Maria Fiume, una chiesa molto importante di cui si parla nella cronaca di Ceccano, negli analisi Ceccanenses, perché c'è la consacrazione con la presenza di ben quattro vescovi della zona, e chiesa che aveva un ciclo di affreschi e di alcuni elementi scultori molto importanti, andati distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale, in parte salvatesi, per esempio il pulpito, mentre negli affreschi, noi abbiamo solo le fotografie di Marchetti Lunghi, perché Marchetti Lunghi fotografava il lungo e il largo. Poi, tra i personaggi di Ceccano, ce n'era uno estremamente importante, che è stato il cardinale Nibaldi da Ceccano, notissimo, perché è stato il vicario del Papa per il giubileo del 1350, è stato il delegato dal governo dello Stato della Chiesa, sempre da parte del Papa, che si trovava da Avignone, è famoso per una grande scena e anche per il suo testamento, che diventa un elemento importante della storia culturale della zona. E qui abbiamo anche delle ricostruzioni storiche, alcune non sono dovute a lui, questa è sua, una ricostruzione del cardinale Nibaldi da Ceccano, che è inedita, non è stata mai pubblicata, qui c'è un materiale anche inedito. Per finire, continuiamo nella sua ricerca bibliografica con anche alcune altre ricostruzioni, alcune delle quali sono inedite, qualcuna è stata inserita nei suoi scritti, ma che sostanzialmente sarebbe anche interessante andare a rivedere nell'autonomia. Poi, come dicevo, lui ha studiato la genealogia dei Ceccano, qui vediamo gli appunti, non solo, ma c'è anche una pianta che riguarda, ecco qui, una ricostruzione genealogica dei De Ceccano, e poi anche una ricostruzione, diciamo, dell'ambito territoriale, che poi lui ha utilizzato per la famosa pianta delle signorie delle varie famiglie, insomma, delle varie entità feudali nel Lazio Medionale. Qui c'è la ricostruzione di quello che era possibile, questa è la zona dei De Ceccano, che hanno, Ceccano è il castello che dà il nome, ma la loro signoria si è a Ciaccavallo della pianura pontina e dell'attuale ciociaria, quelle che una volta erano la marittima e la campagna del Lazio Medionale.